Match importante al Biondi tra Lanciano ed Angolana, entrambe le squadre sono a caccia di punti per riaprire le rispettive corse, quella playoff per i frentani, quella per la salvezza diretta per i nerazzurri di mister Rachini. Pronti via l'Angolana passa al primo vero affondo, la percussione di Scurti vale infatti il cross perfetto per Miani che di testa fa 0-1 con la complicità di Elesai. L'Angolana va a due passi letteralmente dal gol che varrebbe il raddoppio con Miani che si ritrova ancora una volta a tu per tu con Elesai che però riesce a salvare con i piedi ed a tenere i suoi a galla. Il Lanciano riesce a trovare il pari grazie ad un calcio di rigore fischiato dal signor Di Caro della sezione di Chieti. L'atterramento di Iseni porta il tiro dagli 11 metri che Campagnol Bocchio realizza con estrema freddezza. Gli ospiti colpiscono però di nuovo appena 4 minuti dopo il pari con un contropiede letale. Il velo di Miani è illuminante per la corrente Lombardi il cui destro è imparabile per Elesai e vale per il nuovo vantaggio dell'Angolana. Il Lanciano prova a trovare il nuovo pari appoggiandosi ancora alle sfonde di Bocchio ma la conclusione di Mariano alla mezz'ora è forzata e termina alta. La spinta dei padroni di casa è costante e l'occasione più clamorosa per il pari arriva proprio al 45esimo. Con il pallone messo in mezzo dall'out di destra Mariano calcia un rigore in movimento ma Marco Tullio respinge con un autentico miracolo e si va a riposo sull'1-2 per l'Angolana. Nella ripresa il Lanciano manda in campo Alessio Rei sull'out di destra ma l'Angolana resta in controllo riuscendo anche a spaventare seriamente Elesai al quarto d'ora con un pallone messo in mezzo da Cercelluti e salvato davanti all'estremo di casa. I tentativi del Lanciano restano poco incisivi ed il club di mister Pasculli scopre il fianco ad un nuovo contropiede dell'Angolana al 25esimo con la conclusione di Cercelluti che viene bloccata da Elesai centralmente. Ancora un'occasione per l'Angolana con un calcio piazzato da posizione molto pericolosa. Cichella però spara alto al 37esimo. Il Lanciano riesce finalmente ad impensierire l'Angolana con un'azione insistita dentro l'area di rigore ospite ma l'imprecisione è tanta ed il gol del pari non arriva nemmeno al 41esimo. L'Angolana chiude il match in pieno recupero ancora con Miani colpendo in contropiede prima il palo davanti a Elesai e poi approfittando di un pasticcio subito seguente della difesa frentana. Il bomber angolano deposita a porta vuota e firma la sua doppietta per l'1-3 finale. Non c'è più tempo ed il risultato è dunque servito al biondi con i nerazzurri che trionfano e tornano a credere nella salvezza diretta. Tanto ancora da mettere a posto invece per il Lanciano dopo l'ennesimo K.O. Con mister Rachini, mister un bel successo oggi su un campo difficile e soprattutto si interrompe un trend che poteva iniziare a diventare pericoloso. Sì, la classifica cominciava a essere deficitaria, venivamo da due stop pesanti e venire qui e comunque fare questo tipo di partita dà merito alla mia squadra. Sono contento per loro, ripeto, perché io li vedo lavorare e so che non sono quelli visti con il Ponte Romano, non sono quelli di Casalbordino. Dobbiamo ovviamente cercare di trovare un po' di equilibrio. Oggi abbiamo avuto tutto, equilibrio, abbiamo avuto qualità, sacrificio e questo ci ha portato a fare risultato pieno su un campo molto difficile. Con il presidente Pincione, presidente, oggi un risultato purtroppo negativo, il trend della squadra non riesce ancora ad invertirsi. No, purtroppo sì, una giornata malissima. Credo che questa squadra si deve svegliare, cioè non è arrivata oggi come è arrivata l'Angolana. L'Angolana è arrivata determinata, coraggiosa, sapendo quello che dovevano fare. Noi ne parliamo di questa cosa, però purtroppo non si vede nei fatti, no? Con mister Pasculli, mister, una battuta su questo match che, insomma, visto di rinfare l'Angolana e Lanciano non è riuscito ad invertire la rotta? Battuta non ci possono essere perché non ci sono parole, realmente sì, molto deluso, molto deluso della prestazione della mia squadra, mi assumo la mia responsabilità, però non mi aspettavo realmente l'atteggiamento della squadra dopo aver vinto mercoledì scorso contro la prima classifica. Mi aspettavo qualcosa di più, mi aspettavo qualcosa di più, però ho visto una squadra molto leggera, molto non aggressiva, concentrata e questo dispiace molto per il Presidente e per i tifosi che sono venuti a sostenerci.